Lo spirito imprenditoriale dei giovani come leva per combattere la disoccupazione in Europa, questo lo spirito del convegno IES, dedicato appunto alla capacità di iniziativa dei giovani, organizzato nella sede della regione toscana Bruxelles, a cui ha preso parte l'assessore regionale a istruzione e formazione Cristina Grieco. Sul tavolo i risultati delle esperienze di alternanza scuola-lavoro già fatte, ma anche i progetti di supporto alle start-up di impresa, il co-working e il sostegno ai NIT, i giovani che ne studiano e ne lavorano. La Toscana si è candidata appunto a coordinare questo tavolo sulle politiche giovanili e in particolare sull'imprenditorialità, quindi come far conseguire ai nostri giovani quella che è una competenza fondamentale per loro, cioè il saper individuare opportunità di azione nel mercato del lavoro, quindi di creazione di impresa ma non solo, e il saper dare quindi delle risposte efficaci. Al convegno voluto dall'assessorato regionale all'istruzione e coordinato da Giovani Sì, il progetto della regione toscana per l'autonomia dei giovani, hanno partecipato anche rappresentanti del Parlamento e della Commissione Europea, del Governo dei Paesi Baschi e di molte regioni d'Europa. Grazie. Grazie.